I sentimenti affondano le loro radici nell'inconscio. Quando diciamo a qualcuno ti amo, in realtà non siamo del tutto credibili. Infatti l'amore, che è un sentimento, non è qualcosa che l'io possiede e quindi non è qualcosa che l'io può dare ad un altro, in quanto l'io non può disporre completamente dell'amore, perciò non può offrirlo, perché come dice Freud l'io non è padrone a casa sua. Dunque l'amore non è una faccenda dell'io, anche se inizialmente l'io si crede onnipotente, ma non può governare le sue passioni. La psiche non è soltanto razionale, ma è immossa da processi inconsci. Quindi se l'io non è padrone dei suoi pensieri, come può essere padrone dei suoi amori? Dunque quando diciamo a qualcuno ti amo, non siamo del tutto credibili. Il ti amo nasconde un inganno e nasconde anche un autoinganno che è finalizzato in un certo senso alla conservazione della specie. Dire ti amo è frutto anche dell'istinto di sopravvivenza, che ci abita e ci muove in maniera enigmatica. Non a caso le esperienze dell'anima sfuggono a qualsiasi classificazione. La totalità di queste esperienze è sfuggente, è caotica, emerge dall'abisso nel quale però l'io non vuole entrare. L'io entra nell'abisso soltanto quando collassa e non oppone quindi più nessuna resistenza. Allora l'amore riesce a trasfigurare la sua abituale identità e l'io finalmente si apre. Il guscio narcisistico si rompe. I beni più grandi ci vengono proprio da questa apertura, che però è traumatica per l'io. L'io vorrebbe starsene al riparo dalle novità. L'io patisce l'apertura e il cambiamento. L'io non vorrebbe confrontarsi con ciò che non conosce, con il diverso che lo abita, il cosiddetto ospite inquietante che si nasconde dentro di lui. Infatti amare per gli antichi significava essere posseduti da un dio. L'amante è colui che ha dentro di sé un dio. Non è l'io che pensa e parla, ma viene parlato, viene agito. In presenza di amore l'io subisce una dislocazione, uno slogamento. Dunque l'io non dispone dell'amore, ma è mosso da questo potente sentimento che lo espone ad una crisi, in quanto l'amore toglie l'io dal suo centro, lo decentra. L'amore irrompe nell'io scompaginandolo, quindi destrutturandolo. Qual è la fortuna di questa condizione? Beh, la fortuna è che in questa condizione l'io può entrare in rapporto con l'altro, un altro che si trova al di là dell'io. L'io si apre e fa spazio al diverso da sé. Muore una parte di io per far nascere qualcosa di nuovo. Quando l'io dissolve momentaneamente i suoi confini può riorganizzarsi in nuove configurazioni. La rinascita psicologica implica appunto un cedimento parziale dell'io, un superamento della sua ostinazione a resistere. La rinascita psicologica implica la rottura del guscio narcisistico. Del resto solo ciò che si espone ad una lacerazione può rinascere. Bene, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube per essere informati sui nuovi video. Potete trovarmi anche su Facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia. Il mio sito è www.robertoruga.it. Vi informo infine che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su Skype o su WhatsApp oppure consulenze telefoniche per cui potete contattarmi su WhatsApp al numero 338 16 92 473 per richiedere una consulenza specificando il nome, il cognome e gli orari preferiti. Arrivederci.